Quindi che in qualche modo dal basso si cambi modo di fare accoglienza o è più importante dall'alto cercare di controvattere il cambiamento di paradigma e quindi tornare a... Se non parti dal basso non arrivare però... Però d'altro canto, non avere proprio l'opposizione in maniera vera, aiuti. Io direi che sono importanti tutte e due, perché se tu dal basso ti metti lì e dall'alto ti fanno certe altre dosi...